L'oro, questo metallo prezioso che ci ricorda il colore del sole, non cresce sugli alberi, tranne gli zecchini dell'albero di Pinocchio, ma questa è un'altra storia. Secondo alcuni studi effettuati dal Centro Ricerche Australiano di Scienze della Terra, pubblicato di recente sulla rivista Nature Communication, l'oro crescerebbe davvero sugli alberi, precisamente su alberi di eucalipto. Particelle di oro sono state scoperte nelle foglie di questo tipo di albero, endemico in Australia, e potrebbe essere la spia di grandi giacimenti aurei sotterranei. Le tracce sono state individuate in tutti i campioni prelevati, ma in concentrazione maggiore nelle foglie. Per comprendere se l'oro assorbito fosse arrivato trasportato dal vento, oppure si trovasse già nel terreno in cui le piante erano piantate, è stato condotto un esperimento in serra, nel corso del quale sono state fatte crescere piantine in terriccio misto a particelle d'oro, e si è visto che le piante assorbono le particelle dalle radici, naturalmente in concentrazioni non dannose per la loro vita, e le trasportano alle estremità delle foglie. In questo modo è stato per la prima volta dimostrato che la presenza delle particelle di oro nelle foglie di eucalipto è dovuto a giacimenti sotterranei. In particolare, gli alberi crescono sopra un deposito d'oro situato a 35 metri di profondità e assorbano le particelle durante i periodi umidi. Considerando che l'individuazione dei giacimenti auriferi negli ultimi anni si è ridotta moltissimo, il risultato della ricerca potrebbe rilevarsi determinante per lo sviluppo di nuove tecnologie, per individuare nuovi giacimenti d'oro senza effettuare scavi, che sarebbero costosi e spesso devastanti per l'ambiente. Ora, questo non significa che dovrete riempirvi le tasche di foglie di eucalipto, magari i koala rimarrebbero anche senza cibo, perché la concentrazione media dell'oro nelle foglie di eucalipto è di 46 parti per miliardo, ovvero meno dello 0,00005% di ogni foglia. Vi ringrazio e vi rimando alla prossima.